Torniamo ancora una volta sui treni swing. Avevamo fatto un'interrogazione precedentemente dove si rilevavano gravi problemi di software per quei mezzi che arrivano dalla Polonia e l'assessorato della regione ci ha assicurato va tutto bene, va tutto bene le corse noi siamo l'eccellenza della puntualità e del servizio ferroviario. Allora ad oggi arriva una nota proprio dalla Polonia dove pare che questi treni swing oltre al software ci siano dei gravi problemi anche di deragliamento non ci aspettiamo che arrivi il deragliamento quindi chiediamo conto alla regione se ancora il servizio ferroviario è così efficiente come dicono e questi rischi sono da sottovalutare.